Emanuele, questa sera si gioca a Briscola? Si, si gioca a Briscola. Intanto auguri di Buon Natale. Il Buon Capodanno lo faremo questa sera al Teatro Antidoto con Nabriscola. E che dire, è una bella commedia. Si parla di una strana coppia e la strana coppia capirete chi siamo. Chi sarà mai? Chi sarà mai. E Guglielmo ieri sera stava male. Comunque, speriamo bene per questa sera. Qual è la trama, Emanuele? La trama, ti stavo per dire, è la strana coppia. Uno che è molto pulito, ama le pulizie, l'altro tutto al contrario. E perciò poi sono due che uno è divorziato, uno quasi, poi diventano quasi una coppia. E insomma, non possiamo più dire altro. Certo, sarà una sorpresa. Ma passerà nel tempo a giocare a Briscola? Ma insomma, la Briscola inizierà e finirà. Poi vedrete come finirà questa partita a Briscola. Il testo è scritto da Tiziana, mentre la regia è affidata da Giancorlo Bella. La compagnia siamo noi. Insomma, è un bel gruppo che si è messo insieme a lavorare. Abbiamo iniziato con la Briscola e continueremo sicuramente con altri tipi di giochi. Ci sono ancora posti a teatro per questa sera? Sì, sì, sì. Ci sono ancora posti. Già dalle 16 in poi troverete il bottichino aperto. Già la gente è venuta anche ieri sera a comprare. E perciò vi invito a vedere, dopo che avete fatto belle mangiate, belle feste, una bella digestione, una bella risata, con noi ci vuole. Perciò vi aspetto stasera alle ore 21 e 30 in a Briscola al Cineteatro Antitoto con l'Antitoto. Risate, assicurate. Questo è sempre assicurato. Noi lo diciamo sempre. Se la commedia o lo spettacolo non va bene, noi possiamo restituire dopo 365 giorni i soldi. Certamente. Va bene? Ok, tu verrai? Vedremo. Spero di esserci, Emanuele. In bocca al lupo per stasera. E a chi non verrà, l'accompagnate a trarre l'antitoto di Gela, vi auguro a tutti un buon anno. Comunque venite. Ciao.